Ciao ragazzi, sono Chihiro, ambasciatore della cucina in Italia e in Giappone. Mi trovo nella cucina chef in camicia. Vi presento una ricetta tipica, tradizionale, Frau personale, Signora, Gio emergente del cuore e in Gio. Nutri gcraino e in guria gre Rolla come discussion of a caniccia sake, cazzoi, mirin, 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 zucchero, friggitelli. Oh, ma lo tornato. Bara, bara, ecco, ho scelto bellissima fetta di mare. È bello, eh? Io poi, io preferisco sempre condire inizio, quindi condito con un pizzico di salsa. Tutti e due ratti. Come volete, se volete... Come volete, se volete, la tenerezza di cacarane è condita dopo la coccoltura, ma io voglio avere grande sapore e sapidità, e quindi io con questo inizio prima di coccoltura. La griglia cacarana volerete fungete leggermente con l'olio, come volete, se volete... Ecco qua, mettiamo dentro il rumore della Joyce. Prepariamo un condito, la salsa teriyaki, la salsa di soia. Mettiamo nella ciotola sake e vino di riso, mirin e sake d'olce, e zucchero, e mirin d'olce, e sake e vino di riso, e zucchero, e sake e vino di riso, e zucchero, e sake e Amalgamiamo tutti gli ingredienti. Giriamo solo una volta sopra e sotto, e sopra e sotto. Ecco, sono passati qua, quasi per 10 minuti. E poi vediamo la cottura di maiale. Che bellissima cottura! Noi volevamo questa doratura. Abbiamo preparato precedentemente la salsa teriyaki. Versiamo il sbagliare. Ciao! 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 Grazie.